Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ti senti in grado di spostare la terra Suotiamo la benna su e possiamo tornare indietro Adesso ci riallineiamo alla fossa in questa maniera E' veramente tanto intuitivo, è tutto così magico Guardate che bello amoretto Ok, folle, freno di parcheggio, qua abbiamo vari strumenti Questo è per tirare giù Facile farglielo vedere secondo me Dave Bella Ginnè Esatto, prima di farglielo vedere volevo dire per le persone diciamo come si dice Oh The Real Casanova, tu mi hai compiato il The Real davanti Comunque Grazie Zdur, grazie di 23 mesi Qualcuno ha visto alcuni sistemi Quindi appunto lo stiamo ammettendo che abbiamo preso spunto Ok, da un vecchissimo sistema creato Donazione, piacere Amore, questo è bello però, devi fare le scelte C'hai giocato a Detroit? No Non ci ha mai giocato? No Ma l'avevamo scaricato? No L'avevamo messo nella ruota? No Sì Detroit Become Human Vabbè Comunque è una cosa che è un gioco di effetto farfalla Ogni scelta che tu fai C'ha una conseguenza E può avere 10.000 finali diversi, capito? Ah, da porco Dio Che oggi mi porterà a vedere il simulatore A provarlo A raccontare i segreti Scasso cazzo Qualche domanda proprio Vedetevi la live che sfacciono Il treno Scusate Quindi inizia anche in queste aule Che Allora, a posto della sputacchia potessi usare anche l'olio di cocco Sono posizionate Decidere se vi piace questo logo Un feedback Cosa ne pensate? Aspettate che così mi vedete pure a me Eccolimi qua Cosa ne pensate di questo logo? Ho pensato a questo personaggio Che sta in mezzo allo schianto Un po' criminale Un po' serio Quindi Stavamo pensando di fare un server veramente fatto bene Serio Che Oddio Ci da sub a loro Ecco A 1100 sub Ve lo rimetto di nuovo 40 sub Ecco A 1100 sub Ve lo rimetto Ho tolto il TTS Fa vedere Amore Vedo la mia vita Ma non What the hell Amore Non fai cadere Ma sei stupido Ma non me lo faccio Pensare che tu sei in calore Ma non posso sburarti E infatti Sei andata Guarda Gli gattoni feroci del primo giorno Con la lupida troia Che vuole scopare adesso eh Buonissima troia Dov'è la regina della savanna? No Un po' bipolare qui Siamo un zio Poco fa vi avevo detto che vi è ridato il prezzo di un savanna F1 Guardiamo un film Stai a casa Non è che per forza devi uscire Stare insieme Anche se ho 34 anni Porco Dio Vi state zitti Dio cane Porco Dio Oh Mannaggia Amaro Fidanzato da 10 anni E sposato da un anno Ah No Eh no Sti cazzi Ci vado la sola in pausa Ma scommetti che vado Mi prendo le cose per me E te ne prendo niente Non mi ho pigiato niente Mi faccio un ordine su delivery Eh certo Eh certo Mi compro una poche Una poche Eh poche poca Ma vergognati guarda Vergognati No non si vergogna di tu No vergognati tu Che nella mia macchina la posso portare solo io Ma aspettiamo che se fanno Due ore di sale Sempre rinproperato È pazzo signori Si sta evolvendo Signor No Porco Dio Madonna Madonna 22 ore Niente Che ha combinato Vai giù TTS è attivato Appunto Nel server Questo script inizialmente Non permetteva Però di visualizzare Subito Tutti in game Ok Poi Diciamo Noi abbiamo Implementato la funzione Appunto Di far vedere Subito Tutti in game Quindi Eventualmente Una persona Abbia bisogno Di una fazione Ok Non deve aspettare Un riavvio Ah dobbiamo creare il job Oppure non c'è il developer Oppure c'è quest'altro problema No Meglio per farvi capire Bacchettino Bacchettino Una foto con Michelino Ah Michelino Lavoro Eh ho messo VV VV Ecco qua Dai Atalanta Simulator Atalanta Simulator Che cazzo Ti gioco No Mi gioca Dragon Ball Sparking Zero Hai Hai Allora A piedi Mamma come Ragazzi Allora Veramente Lo sapevo Solo sono andato lì Per aprire un po' L'RP Sì capite Oh cazzo Che Che merda Che merda Che merda Che merda Ragazzi Ha buttato 21 minuti E chi 25 ha Meglio 21 minuti Che 25 Mila dollari Direi Reaggiamo Agli studi Degli Youtuber Signori Benvenuti Hai visto il video Di Pre 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 Ecco qua No Iadovin Iadovin grazie mille chiamata come si chiama come si chiama prima lei prima tu come prima tu no prima tu prima tu 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 io mi chiamo richard 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 caldron e lei come si chiama? ma quant'è? neanche mi risponde mamma mia tu come hai detto che ti chiama? come hai detto che ti chiama? ma perchè ridi? mi scusi mi fa veramente ridere lei è proprio un pagliaccio io